23.40, buonasera, benvenuti a quest'ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito dal Libano. Una potentissima serie di esplosioni nel pomeriggio riportato Beirut agli anni più bui della sua storia, gli anni della guerra civile, delle bombe, degli attentati. Ancora non è definitivo il bilancio delle vittime, ma al momento si parla di almeno 73 morti e 3.700 feriti. Gli ospedali sono entrati in crisi, il sistema è collassato, tra i feriti ci sono i dipendenti delle ambasciate di Germania e di Belgio e un militare, un ragazzo, una persona, un italiano che fa parte dell'Unifil, il contingente delle Nazioni Unite che si trova da anni. Gli italiani in particolare sono lì dal 1978. Vediamo il servizio. Inizialmente sembrava solo una colonna di fumo che si alzava da un edificio della zona portuale visibile da tutta Beirut. Ed è proprio mentre gli occhi di tutta la città erano puntati su quel magazzino che ha esploso l'inferno. Un'esplosione colossale seguita da un boato spaventoso che ha raso al suolo la zona adiacente al porto e spazzato via palazzi, automobili e tutto quanto si trovava vicino. Poi una colonna di fumo tra il rosso e l'arancione si è alzata fino al cielo ed avvolto tutta la zona. Ed è proprio dal colore del fumo e dalla dimensione dell'esplosione le autorità si sono rese immediatamente conto che non poteva trattarsi di un semplice ordigno o di un razzo, ma che la deflagrazione doveva aver coinvolto un deposito di materiale chimico. Un bilancio in continuo aggiornamento con decine e decine di morti e migliaia di feriti, numeri destinati tristemente a salire per tutta la notte. Coinvolti nell'esplosione anche i peacemaker dell'ONU, della missione Unifil. Tra i feriti sarebbe coinvolto, seppur lievemente, anche un militare italiano. Ma che materiale sia e perché fosse lì rimane tutto da chiarire e nel frattempo i soccorsi lavorano da ore per restrarre i superstiti dalle macerie, gli ospedali sono già saturi, il sangue di scorta finito e le ambulanze faticano a destreggiarsi tra i detriti. Nel cuore dell'esplosione fino a tardanotte divampano le fiamme che si cerca di spegnere con l'uso di elicotteri. Il premier libanese, Hassan Diab, in conferenza stampa, ha fatto sapere che ci saranno presto rivelazioni sulle cause dell'incidente e assicura che i colpevoli pagheranno. Nel frattempo l'Italia, ma anche la Francia e Israele hanno offerto immediato supporto medico e tecnico e anche la missione ONU a guida italiana fa sapere, tramite il generale Stefano Delcol, di essere pronta a dare assistenza e supporto alla capitale libanese. Beirutta è in stato di emergenza per le prossime due settimane. È stata dichiarata città disastrata. Il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, sta sposando la tesi dell'esplosione in un deposito che si trovava al porto e nel quale erano stoccate 2700 tonnellate di nitrato d'ammonio. Si tratta di una sostanza che viene utilizzata in agricoltura, ma anche per fare esplosivi. Era stata sequestrata anni fa ad una nave moldava ed era diretta in Africa. Il presidente ha definito criminale l'aver tenuto per tutti questi anni in un posto così vicino alla città una sostanza così pericolosa. Tutti gli aggiornamenti su questa storia ovviamente continueranno nelle prossime edizioni del telegiornale. Adesso andiamo a Genova, dove oggi alle 22 sono passate finalmente le prime auto sul ponte Genova-San Giorgio. Sono passate suonando il clacson con le luci accese e i piloni erano illuminati con i colori della bandiera italiana. I motociclisti facevano il segno di vittoria con le dita. Il viadotto è stato ufficialmente inaugurato ieri, ma oggi c'è stato bisogno di un piccolo intervento sul manto stradale. Al termine delle verifiche compiute dalla direzione di autostrada si è potuto procedere all'apertura al traffico. Adesso però vediamo chi gestirà perché per il momento la gestione del ponte continuerà ad essere in capo ad Aspi. Ancora non è cominciata e ci vorranno delle settimane la procedura per il passaggio alla nuova società che si occuperà delle autostrade e quella che ha visto l'ingresso anche di cassa depositi e prestiti. Si rivedranno domani Ministero dei Trasporti e Aspi per definire i termini della concessione per la gestione del nuovo ponte San Giorgio. Al tavolo arriveranno anche le spinose questioni dei pedaggi, degli investimenti e dell'indennizzo. 3,4 i miliardi assicurati dalla concessionaria. Serviranno però almeno 10 anni per mettere in sicurezza solo la tratta ligure gestita da Aspi con quasi 300 gallerie e 500 viadotti. Alla concessione della 10 sono legate però anche le grandi opere funzionali alla logistica della regione come la Gronda, un'infrastruttura da 4 miliardi che la ministra Di Micheli ha assicurato si farà e che 5 stelle non vorrebbero. Altro punto cruciale sarà il cambio dell'assetto societario deciso dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 luglio con l'ingresso di cassa depositi e prestiti e la quotazione in borsa della società che determinerà di fatto l'uscita di scena di Atlantia. Come avverrà? Il dibattito è ancora aperto. Oggi il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha proposto due soluzioni per arrivare ad una scessione fra la società e Autostrade per l'Italia. La prima dovrebbe prevedere la vendita dell'intera quota, l'88% di Atlantia in Aspi, alla quale potrà accedere anche cassa depositi e prestiti. L'altro scenario invece potrebbe passare attraverso lo scorporo di quel pacchetto con una scessione parziale creando così una public company da quotare in borsa. Si avvicina il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Oggi il segretario del Partito Democratico Zingaretti ha lanciato l'allarme. Bisogna affrontare la questione della legge elettorale da approvare almeno entro il 20 settembre in una Camera. Altrimenti con il taglio dei parlamentari, senza una nuova legge, ci sarà un problema serio di rappresentatività. Il tormentato Iter per la riforma della legge elettorale divide sempre di più la maggioranza al punto che il segretario del Partito Democratico Zingaretti, di fronte alla concreta eventualità di rinviare ogni decisione, lancia un appello a approvare la legge elettorale in un ramo del Parlamento entro il 20 settembre. Per i demmi infatti va scongiurata l'ipotesi di arrivare al referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari del 20 settembre senza una nuova normativa di voto, perché, spiegano al Nazareno, metterebbe a rischio la rappresentatività. Il nodo è tutto politico. Al momento della nascita del Governo Giaro Rosso, il PD aveva inserito nell'accordo la riforma della legge elettorale, come contraltare al sì al taglio del numero dei parlamentari. La maggioranza ha poi trovato un'intesa per un sistema proporzionale con sbarramento al 5%. Si tratta proprio di quell'accordo di cui ora Zingaretti invoca il rispetto e si rivolge agli alleati. Per il Movimento 5 Stelle non c'è dubbio, l'intesa va onorata. La pensano diversamente i renziani, che in Parlamento hanno bloccato la calendarizzazione della riforma prima della pausa estiva. E Renzi ora conferma, noi siamo stati sempre a favore del maggioritario e per la legge elettorale dei sindaci, se altri vogliono il proporzionale discutiamone, ma la priorità sono i posti di lavoro e il Paese che non ce la fa. Anche Forza Italia la pensa così. Assurdo, dice Gelmini, parlare di urgenza, non c'è un solo cittadino italiano che consideri la legge elettorale una priorità. Questo era l'ultimo servizio di questa edizione, tutta l'informazione torna domattina alle 7. Arrivederci, buonanotte.